Salve a tutti ragazzi, bentornati su Jolly Show Dopo un breve video sulla beta di Infinite Warfare Ho deciso di tornare ancora un po' sempre indietro ragazzi Siamo di nuovo su Call of Duty Advance of Warfare Praticamente questa volta vi porterò una nuova modalità Visto che l'ultimo video ho portato Mi pare il gioco delle armi Sempre su Advance of Warfare Credo di... Cioè mi ispirava a fare una partita sempre Tutti contro tutti per vedere un po' cosa... Cosa esce fuori Molto probabilmente solo Micheazio bordello a nastro E che tipo non riuscirò a vivere mai Cioè farò due passi e credo Però vediamo un po' Ecco, già subito la mappa solar Che in questo gioco è un po' una sola Oddio Battuto Allora, credo che in questa modalità fare il tattico non serva Guardate, mi ero un attimo abituato alla... Alla beta di Infinite Warfare Quindi adesso un attimino i comandi sono cambiati Eh dai, fuori subito uno Sì! Come diavolo lo ammazza? Oh, non ci credo Mamma mia signori Credo di essere la parte sbagliata Esattissimo Oh, mi è saltato uno proprio in faccia Boom Come cazzo l'ho ucciso? Mi è andata di culo proprio Eh, vabbè Era difficile sopravvivere contro un camperone Ok Allora Vediamo un po' qui Se riesco a fare qualcosa Dio santo no Zero proprio Ma perché me li becco tutti in faccia oggi? No No No, ma Dio mio Ero un fuoco incrociato E chi ce la fa sopravvivere lì? Porca troia Sorda muta cieca Boom Ho ucciso in volo Ok Vai, 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 vai No Niente proprio Lalalì Lalalà Madò Che uccisioni infame che ho fatto Però sono morto anche io Porca mignotta Ragazzi Non arriviamo nel podio Però Se non erro Ho fatto un 14 uccisioni Quindi non è malissimo Dai Sì, 14 uccisioni Oh, non ci credo 14-13 Dai Poteva andare peggio Cioè, questo è proprio morto da coglione Va benissimo Così Vediamo un po' La prossima partita Come andrà Oddio Va bene ragazzi Questa mappa Non ve l'avevo ancora portata Ce l'ho giocato solo una volta online E Diciamo Non mi sapevo molto girare Perché è una mappa Che è abbastanza grande Però C'ha tipo Dei garage Per così dire E quindi tipo La gente si accampa lì Non riesci mai a vedere bene Il nemico È un po' Un casino Come mappa Però Vediamo un po' Cosa si riesce a fare Qualcuno sta ascoltando La musica online Ma perché oggi Tutti online Con me Ce l'hanno Ok Fuori uno Ecco la pistola Inutile Ok Il ricaricamento Tattico No dai Ucciso veramente In modo Scrause Ok ragazzi Allora Ricordiamoci Che la prima partita Era 14 uccisioni Quindi vediamo Un po' Di migliorare Ok no Cazzo C'è uno lì Proprio Con l'area Di quelli cattivi Oh Non ci credo Ragazzi Che razza Di uccisione Apica era Sono riuscito A ucciderlo Prima di essere Ucciso Da un drone Che mi esplose In faccia Volevi fare il giro Eh però Porca troia No dai Quanto odio Quando stai per uccidere uno Ma mori te prima Dai Oh Le uccisioni infami No dai Ti avevo visto Ti avevo visto Dai su Adesso mi farò stronzo Ti avevo visto Oh Però ora corri Che mi sa C'è un cecchino Azzoli No Ma dai Ma porca miseria Ma Ma cazzo Ma perché Oh E' sempre quel drone Di merda Che mi uccide Ucciso Dalla lunga distanza Col fucile d'assalto Non ci credo mai Aspè Abbiamo una cosa Figa per il video Ok basta La mia vita è completa Oh E' anche questo fuori Mamma mia Quanto sono infame No Non mi laggare Non adesso No Dio santo Quello sarebbe Doveva essere un assist Purtroppo Invece In tutti contro tutti Non esiste E quindi Mi sono perso Una kill In sintesi Eh però Mori adesso Ma porca miseria La smettete di rubarmi le kill Vaffanculo Te Tua sorella Vai Suca Se mi lagghi Non vale Se mi lagghi Non vale Se mi lagghi Non vale Ah ah Ho visto uno Ho visto uno Ok Ok ora però Mi sa che mi conviene Correre Perché c'è un cecchino Ricarichiamo in modo Tattico Come sempre La domanda è ora Dove andiamo No 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 Ho parlato presto Ciao bello Dai Fuori in altro Mamma mia Non ci credo Ma altro Signori Ancora Ragazzi Oh mio dio Ancora Non ci credo Ricarichiamo sempre in modo Tattico Dopo quelle fantastiche Doppie uccisioni Ragazzi Ragazzi Un secondo Sette Sono secondo Sono secondo Non ho praticamente Guardato i risultati E sono anche Ragazzi No 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 Vabbè Vabbè Qui siamo a livelli Superiori No ragazzi Qua livelli superiori Davvero Primo Sono primo Sono primo Sono primo ragazzi Primo nel mondo anarchico di Call of Duty Primo nel mondo anarchico Ragazzi primo nel mondo anarchico Basta Io esco dalla lobby Niente Io chiudo qui il video ragazzi Perché 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 sì Quindi Vabbè ragazzi Credo che per questo video di Call of Duty Avanzo e Durfano Posa essere tutto Cioè Giuro Non me l'aspettavo Cioè Ero lì Giocavo tranquillo Nella partita Ammazzavo Morivo Ma non mi ero fatto Prima Mai problemi Primo Primo ragazzi Già mi chiedo di arrivare A una quindicina di like Se andiamo anche di più Vi sposo Quindi ragazzi Un caloroso Fettoso Da jolly show Prima in classifica Nella modalità Tutti contro tutti Di advanced Ed orfea Quindi Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi Ovviamente Lasciate un bel like E commentino Per questo video E cercatemi sui social Quindi Ciao belli Da parte mia E del mio bellissimo Uomo sexy Campione Di advanced Orfea È tutto Ciao